è il turno dei signori gentlemen cavalli anziani miglia otto in prima una in seconda sono in nove corsa molto aperta Pajma Light Pedro è bisogna fare i complimenti anche Fantongar proprio Ciccarelli ieri due primi a Palermo veramente sta andando alla grande per il momento in testa alla classifica di Galoppo Nori parte piano Ontario Riga limitato da Maringo il Cicca quest'anno tenta l'avventura di Primatista via la macchina c'è lotta per il comando poi si staglia Fantongar nei confronti di Pedro e i cavalli affrontano la piegata con Pedro e che sposta e punta in avanti il lancio nell'ordine del quattordice e sei freeway per i buonsimioli che anticipa Noli limits B con l'avvocato di turno e rimane così nasino al vento si completa la piegata e anche i quattrocento iniziali con real comando Pedro è avvocato ti devi adeguare trenta e quattro e Pedro è leader no limits Fantongar allargo anche New York Times si completano i seicento iniziali in quarantaquattro e sette da uno e quindici scarso ora Pedro può amministrare i birilli no limits a largo Phantom di dentro New York a largo e poi ovvio dia azzurra mezzo miglio chiaro vantaggio di Pedro è in un minuto e qualche virgoletta da uno quindici e tre ora e no limits B da segni di stanchezza e retrocede a lunga Pedro e si trascina solo per il momento Fantongar quattordici e sette il chilometro operazioni quattordici e cinque due prendono vantaggi due campioni in erba si fa per dire perché sono giovani simioli e cicca cicca curva finale ma ora si fa notare un avversario che fa paura Pasma Light con l'ottimo Tarciso Greco che vuol dare un po' di dispiacere ai campioni viene via Pasma Light Pedro è al comando si ingamba Pasma Light Pedro ancora in vantaggio allunga Pedro Pasma Light cerca l'aggancio ma il vantaggio di Pedro è ancora significativo ed è lui e e e Pedro è Pasma Light Ontario Gallo Regal bella vittoria di Pedro è due settantadue in chiusura con l'ottimo Simioli rottura di ciccarelli ma l'ottimo Tarciso Greco ha fatto paura a uno dei nostri campioni ma anche lui Tarciso niente male alle redini lunghe uno cinquantotto e nove uno quattordici e tre i numeri di questa quinta Grazie mille a tutti i nostri campioni ma anche lui Grazie mille a tutti i nostri campioni ma anche lui Grazie mille a tutti i nostri campioni ma anche lui Grazie mille a tutti i nostri campioni ma anche lui Grazie mille a tutti i nostri campioni ma anche lui